gentili telespettatori ben trovati consueto appuntamento con il programma sportivo di cilento channel dedicato al basket e come sapete ci occupiamo della new basket agropoli la squadra della città di agropoli che milita nel campionato di serie c gold girone b incontro subito coach franco lepre e un certo francesco cinalli pensate un nuovo acquisto arrivato qui nella nostra città per dare maggiore forza alla squadra innanzitutto saluto i miei ospiti bentrovati allora coach subito presentiamo francesco ha debuttato la scorsa domenica purtroppo non fortunata per noi sì lui è arrivato settimana prima della della gara di una mezza qualche giorno prima quindi ha debuttato con pochi allenamenti sicuramente quindi ancora non è nei meccanismi della squadra adesso con qualche allenamento in più sta entrando nei giochi sia in attacco che in difesa quindi ci potete una mano sicuramente più importante rispetto a quello che è stato fatto alla mezza francesco tu dove sei stato prima di arrivare ad agropoli io quest'anno l'ho iniziato a chieti mi sono aggregato alla prima squadra che milita in a2 semplicemente per per tenermi in allenamento l'anno passato sono stato a borgo sese in serie b negli anni scorsi porto santo elpidio due anni poi perugia in serie c e comunque le mie giovanili le ho fatte tutte quante a chieti la tua altezza la mia altezza un metro e 95 dai normale assolutamente alto devo dire hai perso una scommessa però mi ha detto il presidente insomma che domenica scorsa in quel della calabria insomma di lamezia avevi promesso c'è stata una scommessa prima durante il viaggio eravamo fermi a pranzare il presidente e pompeo mi avevano ribadito di puntare almeno a fare 10 12 punti per la partita e invece con quanti ne hai invece la metà 5 così non è stato ahimè avrei preferito vincere piuttosto che fare i 10 punti però va bene lo stesso ti stai riscaldando sì dai devo ancora come detto prima il coach devo ancora entrare bene all'interno della squadra anche se sono ragazzi super infatti te lo volevo chiedere sono un gruppo veramente veramente super sono tutti i ragazzi del posto sì comunque si conoscono e mi hanno mi hanno mi hanno preso e buttato all'interno la squadra in modo veramente veramente ottimo non me l'aspettavo non aspettavo anche con i due ragazzi valentas e pekic ci siamo subito trovati ecco una cosa che non ti ho chiesto la data di nascita che anno sei 14 gennaio 97 benissimo quindi per le ragazze questo dato non è valido a parte gli scherzi adesso affrontiamo invece con coach lepre come è andata la scorsa partita insomma siamo rimasti un po delusi perché all'inizio eravamo carichi come al solito la new basket agropoli parte diciamo con la marcia in più però poi nel finale forse sconta un po no coach anche mancava pekic quindi sì allora diciamo che dobbiamo scendere le due cose la prestazione e il risultato dal mio punto di vista prettamente tecnico sono contento per la prestazione che i ragazzi hanno fatto su un campo complicato perché dal mio punto di vista ne avremo conferma poi a fine campionata eventualmente la mezzia per me resta un'ottima squadra un ottimo roster sono molto completi come giocatori si ben allenati e giocare su un campo avevano perso una partita qua da agropola l'andata quindi erano imbattuti e noi siamo stati là per due quarti a dominare ma nel vero senso della parola quindi loro ci hanno capito poco niente l'unica chance che avevano di alzare la voce in difesa ci hanno messo le mani addosso e noi là siamo usciti un po dalla partita sono anche contento per il fatto che dopo siamo rientrati di nuovo in partita abbiamo avuto un blackout però abbiamo avuto la forza di di rientrare tutto questo ovviamente con lui che era la nostra prima partita quindi alla sua prima partita con noi sicuramente e con un package che era in panchina fermo completamente per un infortunio avuto in settimana quindi diciamo questo qua ci dà sicuramente motivo di fiducia per quanto riguarda la le prossime partite ecco allora cambiamo pagina e pensiamo al futuro meglio domenica prossima ricordo la diretta su cilento channel sulla pagina facebook del nostro canale ma anche sulla pagina della new basket agropoli l'appuntamento è per le ore 19 mi raccomando tutti a seguirci quindi dobbiamo arrivare davvero a tantissime visualizzazioni domenica prossima affronteremo il derby salerno arriva qui seconda in classifica vero coccia 8 punti lo ricordiamo mentre prima è in lamezzia con 10 punti e noi siamo a 6 punti al terzo posto insieme ad altre due squadre ovvero rende se non vado errato e cercola mentre a 0 punti rimane langri allora un campionato lo dicevo qualche puntata fa molto equilibrato però bisogna vincere domenica così noi noi abbiamo un obiettivo solo vincere domenica quindi questo stiamo lavorando da già da sul sul pulma nel ritorno di lamezzia si pensava già al derby costalerno quindi siamo tutti quanti concentrati i ragazzi stanno ben allenando speriamo di recuperare peggio non so come lo avremo per domenica però ci stiamo lavorando sia noi che lo staff medico dottore schiettini il nostro fisico della pista tutto 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 l'entourage medico che ci gestisce sta lavorando al fine che lui possa possa essere della partita ci aspetta una partita complicata come tutte quante le altre perché salerno dal mio punto di vista una squadra molto esperta per la categoria ha dei giocatori in campo che stanno cosa fare che hanno già vinto campionati quindi sono molto esperti nelle nella gestione delle partite discorso uguale dell'andata fotocopia di lamezzia noi siamo andati a salerno giocando due quarti bellissimi dopodiché siamo avuti un blackout terzo quarto sono rientrate e poi stare appunto appunto fino alla fine dobbiamo evitare questi blackout sicuramente dobbiamo aumentare l'intensità e questo è il motivo per cui Francesco è stato è stato scelto è stato voluto ad agropoli per darci quello che ci manca in quelle situazioni sia in attacco che in difesa quindi stiamo lavorando anche per questo queste situazioni qua poi la classifica sarà accortissima da qua alla fine quindi sicuramente varrà molto la differenza canestri varrà molto gli sconti diretti quindi e poi avremo una seconda fase orologio che saranno altre cinque partite che andremo a giocare però il nostro obiettivo è di di vincere domenica e vincere tutte e quattro le restanti partite che ci 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 dividono dalla fase orologio sicuramente allora per chiudere con francesco naturalmente la scommessa questa volta la fa con cilento channel io rappresento non solo il canale ma anche tutti i telespettatori quindi a te la parola finale per chiudere e salutare i nostri telespettatori io invito tutta tutta gli abitanti di agropoli a sostenerci sia da casa qui al palazzetto per il momento non si può venire speriamo prima o poi che riapriranno e niente speriamo di vincere come ha detto il coach è una partita sentita io che vengo da fuori da esterno devo dire che la sentono e già nello spogliato io si dice no domenica un'altra guerra per carità ogni partita una guerra sarà una guerra fino alla fine dell'anno ed è giusto che sia così e chiaramente noi domenica vogliamo vincere vogliamo prenderci due punti e tu naturalmente hai fatto la scommessa quanti punti farai non lo non so io spero semplicemente di vincere questo sicuro posso anche fare zero punti ma voglio vincere voglio vincere basta bene grazie allora a coach franco lepre a francesco cinalli e al presidente angelo farese che chissà se un domani avrò l'onore di averlo qui insieme a noi